Un lavoro complesso, un lavoro intenso fatto dai dipendenti del parco e quindi dall'area conservazione ma anche da molti collaboratori esterni che hanno contribuito in maniera importante. Lavoro complesso perché abbiamo lavorato su un territorio vasto, su una rete di parchi, cinque parchi e anche le riserve, quattro, su due province e soprattutto abbiamo cercato di portare un nuovo modello di conservazione, non più la conservazione stretta all'interno dei confini amministrativi dei parchi e questo ci ha portati a raccogliere un grosso interesse anche da parte di comuni che sono al di fuori del consorzio dei parchi, i quali ci chiedono di stringere delle convenzioni per valorizzare le aree che hanno di pregio ambientale come aree SIC, ZPS o anche aree che non hanno una caratterizzazione particolare ma che sono sicuramente aree di pregio ambientale. Quindi un momento per fare il punto, un momento anche per fare un rendiconto di tutte le attività svolte nel CRAS, il CRAS Le Civette dedicato al recupero degli uccelli rapaci, il CRAS Casa rossa dedicato alla fauna minore e per questo colgo l'occasione anche per ringraziare tutti i volontari che hanno sostenuto le attività all'interno del CRAS. Grandi propositi, grandi progetti, naturalmente richiamando anche la collaborazione delle associazioni ambientaliste con le quali abbiamo ottimi rapporti, il WWF, la LIPO con i quali gestiamo rispettivamente la riserva dei Ghirardi e la riserva di Torrile ma anche Legambiente che è sicuramente un nostro riferimento ma anche un rapporto importante con le università. Con le università abbiamo collaborato su diversi progetti europei, progetti LIFE. Il tema della sostenibilità diventa un tema molto importante sul quale vogliamo lavorare e accanto a questo anche quello dell'economia circolare che rappresenta una modalità per contagiare tutti i territori fuori dal parco ma anche per contagiare l'economia che ci circonda a intraprendere un percorso dove da un lato possano svolgere le proprie attività industriali o agricole ma farlo nell'accezione di una sostenibilità e di un rispetto verso quello che è l'ambiente che li circonda. Grazie 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 Grazie